oh la testa maschera vai vai guarda che cosa no ah no alza un po' di più dai 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 sono contro neroni state? si sono contro i micro che stanno dietro nolbero chi siete? troppiato 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 eh da ferro vai 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 devi girare in alto non mira proprio non mira proprio ma mi verrà troppo questo giocchino non sei accorto come dire non ti ne va accorgere vai 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 vale abbastagli aspetta dai 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 un attimo un minuto dai 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 un attimo è caricato? è caricato? no c**o arkan ora ma non la fa piazzo sul dente chi è? alessio pino dente, prego colpo, prego dente come va a fare l'assallo che ci chiamava? ci sta, ci sta hai scagliato eh si va a fare l'assallo ma come ho un apiato fortissimo dove? chi? prendi caffè prendi i dolci sentit oh